ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco o livello spinoso vital a cosa serve o livello spinoso vital a un parafarmaco appartenente alla categoria degli elisir succhi sciroppi è commercializzato in italia dall'azienda veleda italia srl informazioni commerciali titolare veleda italia srl concessionario veleda italia srl categoria di appartenenza elisir succhi sciroppi confezioni o livello spinoso vital sciroppo di frutta con polpa in flacone 250 ml indicazioni favorisce le difese immunitarie e don energia modalità d'uso con 2 3 cucchiaini di sciroppo o livello spinoso vital diluiti in acqua tisana late si ottiene una bevanda vitalizzante e tonificante dal sapore inconfondibile da gustare tre volte al giorno ottimo anche per insaporire yogurt quarkom wesley descrizione e caratteristiche sciroppo di frutti di olivello spinoso con zucchero aggiunto per poter beneficiare dell'effetto vitalizzante della vitamina c a meglio consumare un livello spinoso vital nella prima parte della giornata rivitalizza e apporta vitamina c naturale per la produzione del gustoso sciroppo di olivello spinoso vital veleda utilizza le bacche fresce di olivello maturate al sole i riguardosi processi di produzione preservano le preziose sostanze racchiuse nei frutti il forte legame dell'olivello spinoso con le forze di luce e struttura si esprime nell'alto contenuto di sostanze vitali dei suoi frutti ricchi di vitamina c e beta carotene olivello spinoso vital contiene puro succo di frutta e polpa contiene zucchero e miele avvertenze agitare prima dell'uso contiene miele non adatto ai bambini di età inferiore a 12 mesi dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro tre mesi allergeni non contiene ingredienti da cereali con glutine non contiene latte o latticini componenti e ingredienti zucchero succo e polpa delle bacche di olivello spinoso 42 per cento miele da coltivazione biologica da coltivazione biologica biodinamica o da raccolta spontanea ecologica analisi media per 100 ml energia 1360 k e lunga barra 321 cal grassi 1,6 g di cui acidi grassi saturi 0,5 g carboidrati 75 g di cui zuccheri 67 g fibre 2,8 g proteine 0,5 g sale 0 e 25 g vitamina c 80 mg corrisp al 100 per cento vnr fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato